La nuova Audi Q5 è più tecnologica e dinamica, con design più grintoso, gruppi ottici posteriori con tecnologia OLED e propulsori ibridi plug-in con motore TFSI. Eternamente, nella nuova vettura le prese d'aria laterali possono contare su di un superiore sviluppo longitudinale e su inserti decorativi trapezoidali. Grazie alle luci diurne, i proiettori a LED vantano una inedita firma luminosa.